Per risolvere una disequazione di secondo grado, la prima cosa che dobbiamo verificare è che questa sia scritta in forma normale, cioè il trinomio deve essere nella forma ax alla seconda più bx più c. Se la disequazione non dovesse essere già in forma normale, si dovrebbero fare tutti i calcoli per portarla in questa forma. Vedremo più avanti in questa lezione un esempio. Una volta portata la disequazione in forma normale, dobbiamo risolvere l'equazione associata, cioè l'equazione che si ottiene sostituendo il simbolo della disequazione, in questo caso minore uguale, con l'uguale. Non vedremo in maniera approfondita tutti i passaggi per risolvere l'equazione, perché ciò che ci interessa in questa lezione è capire come si risolvono le disequazioni. Riporterò comunque tutti i passaggi. Segniamo chi sono A, B e C. Poi calcoliamo il delta dell'equazione, l'espressione B alla seconda meno 4AC. In questo caso il delta è maggiore di zero. Per trovare le soluzioni dell'equazione dobbiamo applicare la formula risolutiva e poi sostituire tutti i valori. Facciamo poi tutti i calcoli. In questo caso l'equazione ha due soluzioni, x uguale meno 2 e x uguale 4. Una volta che abbiamo trovato le soluzioni dell'equazione associata, possiamo iniziare a risolvere la disequazione vera e propria. Quando delta è maggiore di zero, cioè quando l'equazione è associata a due soluzioni, ci conviene risolvere la disequazione usando il metodo grafico della parabola. Infatti, un trinomio ax alla seconda più bx più c ha come rappresentazione grafica una parabola, che ha concavità verso il basso se a è minore di zero e verso l'alto se a è maggiore di zero. Per ricordarlo meglio possiamo immaginare che la parabola è triste se a è minore di zero, negativo, ed è invece felice se a è maggiore di zero, positivo. Inoltre, il numero di soluzioni dell'equazione ax alla seconda più bx più c uguale a zero corrisponde al numero di punti di intersezione della parabola con l'asse delle x. Queste informazioni ci sono utili per disegnare la parabola. Disegniamo una retta numerica orientata, che per noi sarà il nostro asse x. Non abbiamo bisogno in questo caso di disegnare l'asse delle y. Poi riportiamo le soluzioni in ordine numerico sulla retta. Abbiamo prima meno due e poi quattro. Le riportiamo con un pallino pieno perché nel simbolo della disequazione c'è l'uguale. Poi disegniamo la parabola. A in questo caso è uguale a uno, maggiore di zero. E allora la parabola sarà felice, quindi con concavità verso l'alto. Toccherà l'asse delle x proprio nei punti meno due e quattro. Ora siamo pronti per ricavare la soluzione. Dobbiamo chiederci per quali valori di x la parabola sta nella zona di piano sotto la retta. E questo perché il simbolo della disequazione è minore uguale. Dando un'occhiata al grafico, ci accorgiamo che la parabola sta sotto l'asse delle x in questa zona di piano. Ed è la zona che corrisponde all'intervallo di valori tra meno due e quattro. In questo caso, dato che il simbolo della disequazione comprende anche l'uguale, dobbiamo prendere come soluzioni anche gli estremi di questo intervallo, quindi anche meno due e quattro. Allora la soluzione della disequazione sarà l'intervallo dei valori compresi tra meno due e quattro. Lo esprimiamo in questo modo, con la x circondata da meno due e quattro. Questa è la soluzione della disequazione. Vediamo un altro esempio. Il primo passaggio, come abbiamo detto, è risolvere l'equazione associata. In questo caso, per risolverla, ci è più comodo avere il termine di secondo grado positivo e allora moltiplichiamo entrambi i membri di questa equazione per meno uno. Otteniamo questa equazione equivalente. a è uguale a uno, b è uguale a uno e c è uguale a meno sei. Calcoliamo allora delta dell'equazione e poi le soluzioni, che in questo caso sono meno tre e due. Ricordiamo quello che abbiamo già detto sul collegamento tra trinomio di secondo grado e parabola. Anche in questo caso l'equazione è associata a due soluzioni e allora disegneremo la parabola che attraversa l'asse delle x in due punti. Per disegnare la parabola, come detto, disegniamo prima l'asse delle x, la retta orientata. Poi sistemiamo in ordine numerico le soluzioni che abbiamo trovato. Sono meno tre e due. In questo caso le indichiamo con un pallino vuoto perché il simbolo della disequazione non comprende l'uguale. In questo caso a è uguale a meno uno, quindi la parabola con cavità verso il basso. È una parabola triste e la disegneremo in questo modo. Per ricavare la soluzione della disequazione ci dobbiamo chiedere per quali valori di x la parabola sta nella zona di piano sotto la retta, quindi in questa zona. Dopo una rapida occhiata troviamo facilmente che queste sono le zone di piano che ci interessano. Allora gli intervalli che ci interessano saranno questo, quello delle x minori di meno tre, ricordiamo di non includere meno tre perché il simbolo della disequazione non comprende l'uguale, è questo, quello delle x maggiori di due. Aggiungiamo questo simbolo che vuol dire o, quindi le soluzioni sono le x minori di meno tre o le x maggiori di due. Le disequazioni che abbiamo visto avevano un'equazione associata che aveva delta maggiore di zero. Vediamo adesso come ci si comporta negli altri casi. In questi casi non è più utile ragionare in termini di parabola perché il discorso si complicherebbe. Vediamo allora come comportarci. Vediamo questo esempio. Il primo passo è sempre quello di risolvere l'equazione associata. In questo caso a è uguale a 4, b è uguale a meno 12 e c è uguale a 9. Dopo aver calcolato il delta ci rendiamo conto che è uguale a zero. Se delta è uguale a zero, la soluzione dell'equazione ax alla seconda più bx più c uguale a zero è unica ed è meno b fratto 2a. Inoltre il trinomio ha lo stesso segno di a tranne in x uguale meno b su 2a, dove è uguale a zero. Quindi per trovare l'unica soluzione dobbiamo calcolare meno b fratto 2a. Sostituiamo i valori, semplifichiamo 4 e 12 dividendoli entrambi per 4 e poi ricaviamo la soluzione, che in questo caso è 3 mezzi. Per ricavare la soluzione dobbiamo ragionare su quello che abbiamo detto poco fa. Poiché delta è uguale a zero, il trinomio 4x alla seconda meno 12x più 9 ha lo stesso segno di a. a in questo caso è positivo perché è uguale a 4 e allora il trinomio sarà positivo, tranne che per x uguale 3 mezzi. Poiché la disequazione ci chiede quando il trinomio è positivo, possiamo dire che questo è positivo per ogni x che appartiene ad r, tranne 3 mezzi. e lo indichiamo in questo modo. La rovesciata vuol dire per ogni, la e vuol dire appartiene a, r è il simbolo dell'insieme dei numeri reali, il meno ci dice che stiamo togliendo a questi numeri un valore e quel valore è quello che mettiamo tra parentesi graffe, quindi 3 mezzi. Se invece la disequazione ci avesse chiesto quando 4x alla seconda meno 12x più 9 è maggiore o uguale a zero, la soluzione sarebbe stata per ogni x appartenente ad r. Infatti questo trinomio ha lo stesso segno di a, è positivo, ed è uguale a zero per x uguale 3 mezzi, quindi vuol dire che è maggiore o uguale a zero sempre. Se il simbolo della disequazione fosse stato invece minore, allora non avremmo avuto soluzioni, e lo avremmo espresso in questo modo. Non esiste x appartenente ad r. La e rovesciata è il simbolo di esiste. Se lo sbarriamo, stiamo intendendo non esiste. In questo caso non esistono soluzioni perché, dato che delta è uguale a zero, il trinomio ha lo stesso segno di a, quindi è positivo, ed è al massimo uguale a zero in meno b fratto 2a, quindi è uguale a zero in tre mezzi. Ciò vuol dire che è maggiore o uguale a zero, ma mai minore di zero. Infine, se la disequazione avesse avuto il simbolo minore uguale, avremmo potuto dare come soluzione x uguale tre mezzi. Infatti, in questo caso, possiamo dare almeno un valore, quello in cui il trinomio è uguale a zero, ed è uguale a zero in x uguale tre mezzi. Vediamo ora come comportarci quando il delta è minore di zero. Per risolvere questa disequazione partiamo col risolvere l'equazione associata, equazione che ha coefficienti a uguale 2, b uguale meno 1 e c uguale 3. Il delta di questa equazione è uguale a meno 23 ed è minore di zero. Se delta è minore di zero, l'equazione ax alla seconda più bx più c uguale zero non ha soluzioni. Inoltre, il trinomio ha sempre lo stesso segno di a. In questo caso, allora, 2x alla seconda meno x più 3 ha sempre lo stesso segno di a, che è uguale a 2, quindi è sempre maggiore di zero. Ricavare la soluzione allora è semplicissimo, perché se è sempre maggiore di zero, questa disequazione sarà verificata per ogni x che appartiene ad r. Tutte le x la verificheranno. Avrebbe avuto la stessa soluzione anche la disequazione con simbolo maggiore uguale. Infatti, essendo sempre maggiore, avremmo comunque avuto sempre soluzioni. Cosa succederebbe se la disequazione avesse il simbolo minore? Riguardo all'analisi del segno del trinomio, non cambia niente. Infatti, questo trinomio è sempre maggiore di zero. Ma allora, se è sempre maggiore di zero, non esiste nessun valore di x per il quale è minore di zero. Avremmo dato la stessa soluzione nel caso il simbolo della disequazione fosse stato minore uguale. Infatti, se il trinomio è sempre positivo, e non è mai uguale a zero, non può mai essere minore o uguale a zero. Vediamo un altro esempio con delta negativo. Risolvendo l'equazione associata e andando poi a calcolare il delta, ci accorgiamo che questo è negativo, uguale a meno 68. Come detto già prima, se delta è minore di zero, l'equazione ax alla seconda più bx più c uguale zero non ha soluzioni e il trinomio ha sempre lo stesso segno del coefficiente del termine di secondo grado. In questo caso a è uguale a meno 3 e quindi meno 3x alla seconda più 4x meno 7 è sempre minore di zero. Poiché è sempre minore di zero e la disequazione ci chiede quando è maggiore di zero, è facile dire che questa disequazione non ha soluzioni e lo esprimiamo nel solito modo. Non esiste x che appartiene ad r. La stessa soluzione avrebbe avuto la disequazione con simbolo maggiore uguale. Se un trinomio è sempre minore di zero, non può mai essere né maggiore né uguale a zero. Se invece avessimo dovuto risolvere la disequazione col simbolo minore, avremmo dato come soluzione per ogni x appartenente ad r. Quindi tutte le x sarebbero state soluzione. In questo caso infatti il trinomio è sempre minore di zero. Avrebbe avuto la stessa soluzione anche la disequazione col simbolo minore uguale. Vediamo nel prossimo esempio un caso in cui la disequazione non è in forma normale. Quindi dovremo fare un passaggio preliminare rispetto a quelli che abbiamo fatto negli esempi precedenti. Dovremmo fare un passaggio zero, quello di portare la disequazione in forma normale, facendo tutti i calcoli necessari. Iniziamo! Abbiamo un quadrato di binomio, x-1 alla seconda. Questa è la formula del quadrato del binomio. Allora dovremo calcolare quadrato del primo termine, quadrato di x, quindi x alla seconda, il doppio prodotto, che in questo caso sarà negativo, doppio prodotto tra primo e secondo termine, quindi 2 per x per 1, e allora meno 2x, e poi il quadrato del secondo termine, il quadrato di 1, quindi avremo più 1. Possiamo poi riscrivere il meno 1. Ora dobbiamo moltiplicare meno 2x per i termini che ci sono tra parentesi. Meno 2x per x fratto 2 è uguale a meno 2x alla seconda fratto 2. Poi meno 2x per meno 1 è uguale a più 2x. Ricordiamo meno per meno uguale più. Poi maggiore, e infine a secondo membro dovremo moltiplicare x per tutti i termini dentro la parentesi. x per 3 uguale 3x, e x per meno x uguale meno x alla seconda. Ora possiamo fare le semplificazioni. Eliminiamo meno 2x e più 2x e 1 e meno 1. Questi sono termini opposti tra loro. Poi semplifichiamo nella frazione i 2. Ciò che ci rimane a primo membro è x alla seconda meno x alla seconda. Ora portiamo i termini che erano a secondo membro al primo, cambiandoli di segno. Quindi 3x diventerà meno 3x e meno x alla seconda diventerà più x alla seconda. A secondo membro abbiamo 0. Facciamo un'ultima semplificazione e liberiamoci di meno x alla seconda più x alla seconda. Questa, allora, è la forma normale della disequazione. Possiamo adesso applicare i passaggi che abbiamo visto in tutti gli altri esercizi. Risolviamo allora l'equazione associata. In questo caso a è uguale a 1, b è uguale a meno 3 e c è uguale a 0. Se c è uguale a 0 l'equazione è spuria e la possiamo risolvere senza dover passare dal delta e dalla formula risolutiva. Infatti ci è sufficiente raccogliere la x. Poi applichiamo la legge di annullamento del prodotto, che ci dice che un prodotto è nullo se è nullo almeno uno dei suoi fattori. Otteniamo x uguale a 0 e x meno 3 uguale a 0. Abbiamo posto uguali a 0 i fattori del prodotto. x e x meno 3. La prima soluzione è x uguale a 0. La seconda la troviamo spostando a secondo membro il meno 3. E quindi è x uguale a 3. Allora questa equazione ha due soluzioni, x uguale a 0 e x uguale a 3. Quando un'equazione è associata a due soluzioni ci conviene disegnare la parabola. Allora disegniamo il nostro asse delle x, sistemiamo 0 e 3 in ordine numerico, li rappresentiamo con un palino vuoto perché il simbolo della disequazione non ha l'uguale, e poi disegniamo la parabola. La parabola deve passare per 0 e 3 e dato che A è uguale a 1, positivo, la parabola è felice, quindi ha la concavità rivolta verso l'alto. Per ricavare la soluzione dobbiamo chiederci per quali valori di x la parabola sta nella zona di piano sopra la retta. Sopra perché il simbolo della disequazione è maggiore. Quindi ci dobbiamo chiedere quando la parabola sta in questa zona. La parabola sta sopra l'asse delle x in queste zone e allora gli intervalli che ci interessano sono questo, quello delle x minori di 0, e questo, quello delle x maggiori di 3. Allora la disequazione è verificata per x minore di 0 o per x maggiore di 3. Per risolvere le disequazioni di secondo grado è fondamentale saper risolvere le equazioni di secondo grado e allora vi consiglio questo mio video in cui spiego come si risolvono le equazioni di secondo grado intere. Vi ringrazio per la visione, vi invito a iscrivervi al canale e a mettere un like al video e vi auguro un buon proseguimento e un buono studio.